Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Ecco le immagini del nuovo ospedale, le ha postate il presidente Ceriscioli sul suo profilo Facebook poi però aggiunge siamo in attesa di nuovi progetti da realizzare in altre possibili aree intanto il tema dell'ospedale scalda la politica fanese Aguzzi chiede le dimissioni di serie ma il sindaco risponde, da lui solo chiacchiere Ladri sempre in azione, non risparmiano niente e nessuno Terzo furto in 20 giorni in un asilo a Fanno, le maestre chiedono l'installazione di telecamere Si chiama Alex, ha 14 anni, frequenta la scuola Olivetti e domani sarà a Roma per partecipare alle Olimpiadi di italiano Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Buonasera, il telegiornale si apre con una notizia che è arrivata poco fa in redazione che riguarda l'arresto di un ventenne pesarese che è stato sorpreso dai carabinieri di Saltara mentre aveva con sé 52 grammi di hashish, 5 grammi di marijuana e 5 di cocaina Insieme a lui sono stati segnalati altri 6 ragazzi provenienti da varie parti d'Italia che stavano per partecipare ad una 12 ore di musica non stop elettronica un evento, un rave party, così si definisce, che è un po' diverso dal solito non era infatti all'aperto ma era stato organizzato in una discoteca di cartoceto un evento che tra l'altro aveva avuto, come spesso accade in questi casi anche un tam tam sui siti specializzati e anche su Facebook la cosa particolare è che nella stessa discoteca dove intorno a luna di notte stava per iniziare il rave party, prima aveva un evento a base di liscio così come avviene spesso e questo ha naturalmente fatto scatenare alcuni commenti tra cui sarcastici dei clienti di questo rave party che però subito dopo luna di notte sono iniziati ad arrivare nella discoteca ma i carabinieri che naturalmente una volta presa la notizia sempre attraverso internet hanno pianificato un servizio con la collaborazione dei vigili urbani sapendo che questi eventi spesso sono associati all'uso e all'abuso di sostanze stupefacenti dicevo, appena sono arrivati i primi partecipanti a questo rave party i carabinieri hanno fermato le prime autovetture e i risultati sono stati subito quelli già più o meno previsti in poco tempo la caserma si è riempita di ragazzi tutti in attesa di formalizzare e di essere ascoltati per il relativo e i relativi verbali insomma come abbiamo già detto è stato arrestato un ventenne che è stato condotto in carcere e subito dopo rimesso in libertà in attesa del processo, si tratta di un ventenne di Pesaro con numerosi precedenti specifici ecco questa era la notizia che è appena arrivata e l'ho elaborata praticamente quasi in diretta invece il furto, il terzo furto a dire il vero in 20 giorni in un asilo un asilo che si trova vicino al porto di Fano adesso le maestre, insomma i dipendenti di questa scuola di questo asilo sono preoccupati e sentite perché? entra per lavorare, trovi la paura addosso sembra che qualcuno ti salta sì, io sono entrata, ti dico, lo trovavo proprio tremava dopo il furto della notte scorsa erano ancora spaventate le cuoche del servizio mensa quando stamattina siamo entrati nella scuola dell'infanzia Paolo Manfrini in via della Marina Fano hanno avuto paura di trovarsi faccia a faccia con i ladri è stato questo infatti il loro primo pensiero quando hanno varcato la porta d'ingresso le luci erano accese le ante degli armadietti spalancate molti oggetti e alcuni giochi dei bambini a terra hanno così deciso di fare un giro tutte insieme attorno all'edificio ma per fortuna i malviventi si erano già deleguati ho trovato questo giù per terra che sarebbe la reglina del congelatore poi c'è questo qui questo residuo che hanno lasciato che non c'era perché noi puliamo perfettamente la cucina quando andiamo via e poi in lavanderia c'era la luce accesa mi può seguire e noi l'abbiamo seguita fino ad arrivare a questa stanza quella presa di mira dai ladri ora gli armadietti tutti aperti a Claudio il bidello comunale gli mancano due paia di pantaloni una maglia blu un paio di scarpe da ginnastica e pronto? basta vero? alla cintura e poi ci aveva le chiavi della dispensa infilate nel pantalone continuando a controllare gli oggetti mancanti in nostra presenza si sono accorte che sono stati portati via anche degli accendini e un asciugacapelli secondo le cuoche per introdursi all'interno della struttura i malintenzionati avrebbero provato ad entrare da una finestra che dà sulla cucina si può vedere infatti che la zanzariera è stata tagliata poi una volta fallito il tentativo sarebbero passati da una finestra laterale e come ci raccontano questa non è la prima volta che rubano la scuola Manfrini le scorse volte oltre ad aver rotto una macchinetta del caffè avevano preso diversi prodotti alimentari come il pane e l'olio è un po' isolato rimani in fondo della via allora fanno le cose che dobbiamo fare con la santa calma perché non trovi magari segni di fretta perché girano tutto non per dire sono entrata in una classe hanno preso la fuga girano dappertutto ci sono le telecamere in questa struttura? no nel giro di un anno e mezzo due anni sarà la settima ottava volta che vengono cioè io e la cuoca che non c'è che a casa lei viene prima alle sei e tre quarti insomma anche lei ha paura perché logicamente non sai giornalmente chi ti trovi di fronte così vivete nella paura così insomma dai non è possibile cioè nel giro di venti giorni la terza volta cioè anche nel confronto di questi bambini perché sentono le voci entrano all'asilo sono stati ladri a sentire il prefetto i furti sono in calo mentre sono in aumento le rapine quanto emerge dalla riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduto in mattinata dal prefetto di Pesorubino Luigi Pizzi a subire una diminuzione rispetto al 2014 sono anche danneggiamenti seguiti da incendio e reati connessi agli stupefacenti il prefetto invita comunque i cittadini a segnalare alle forze di polizia ogni presenza di persone che appaiono sospette in occasione delle prossime festività pasquali la polizia aumenterà i controlli sulle principali arterie stradali della provincia e nelle zone vicine alle discoteche ai locali notturni verrà rafforzato anche il lavoro svolto dai vigili del fuoco dal 118 e dalle strutture sanitarie e adesso apriamo l'ampia pagina dedicata alla sanità il presidente della regione Marche Luca Ceriscioli ha annunciato un progetto sul nuovo ospedale che almeno stando alla delibera dovrebbe sorgere a Fosso Seore una località a metà strada tra le città di Pesaro e di Fano questa notizia come ormai ben sapete ha suscitato però un vespaio di polemiche soprattutto politiche ed ecco la struttura pensata per l'ospedale Marche Nord nel sito di Fosso Seore che dovrà servire un bacino di 500.000 abitanti in base al progetto depositato a Palazzo Raffaello dalla società Inso Sistemi di Firenze il nuovo nosocomio comprende 512 posti letto 16 sale operatorie 3 sale di day surgery e una superficie ad uso sanitario di circa 65.000 metri quadrati per realizzarlo serviranno tre anni con un investimento di circa 150 milioni di euro il governatore Ceriscioli parla di un lavoro molto approfondito e ricco di particolari realizzato da una società specializzata in questo settore e la regione ora ha 90 giorni di tempo per analizzare la proposta e a metà giugno l'ente dovrà annunciare la decisione ed eventualmente fare partire la gara dopo la notizia di questo progetto annunciata mercoledì non si sono fatte attendere le reazioni della politica come quella dell'ex sindaco di Fanno Stefano Guzzi che chiede le dimissioni di Massimo Seri per il consigliere comunale il Santa Croce potrà essere salvato solo se si torna a votare e se viene isolato il partito democratico con i suoi massimi rappresentanti come Ricci e Minardi per Marco Savelli della lista civica a noi città ancora nessuno ha chiarito come verrà finanziato il nuovo ospedale prima si parlava di muto ora di project financing ovvero la finanza di progetto uno strumento fa notare Savelli di partenariato pubblico privato che ha messo in difficoltà le casse di molte regioni togliendo di conseguenza le risorse per altri servizi essenziali la lista civica del sindaco è contraria al sito di Fosso 6 ore e spera che si possa trovare una soluzione condivisa ascoltando chi vive e lavora nel territorio solo così secondo loro si potrà avere un servizio sanitario migliore e vedersi restituito il diritto alla salute in democrazia e le reazioni alla reazione del sindaco di Fano alle parole del suo predecessore non si sono fatte attendere sentite che cosa ci ha detto al telefono da Pescara dove si trova in queste ore per raccogliere i fondi europei per la città vediamo beh intanto che ci sia una problematica non mi sorprende come si è dato il tema e la sensibilità che c'è verso la sanità però mi ha sorpreso la posizione dell'ex sindaco Aguzzi in quanto è vero quando non c'hanno argomenti si attaccano le persone ma mi fa specie che lo faccia proprio lui quando si parla di Foso Signore è proprio la scelta su cui si basa il presidente della regione facendo riferimento ad un accordo tra le due città quando era sindaco a Pesaro l'attuale presidente della regione e sindaco a Fano Aguzzi quindi più che parlare a me dovrebbe parlare a se stesso che era stato lui che aveva condiviso una scelta di quel tipo oggi tutto si è rimesso in discussione io ho inviato una lettera al presidente dove chiedevo di evocare quell'atto perché in questa fase non ci deve essere niente di precostituito io ho chiesto e chiedo e chiederò e insieme a me lo faranno tanti altri che ci sia un'iscussione serena oggettiva mettendo sul tavolo in modo trasparente tutte le proposte con tutti i costi benefici con le criticità e gli aspetti positivi in modo tale che ci possa essere una condivisione una scelta condivisa non soltanto da Fano ma da tutto il territorio ecco sindaco Cerescioli aveva dichiarato ai nostri microfoni che avrebbe convocato sia lei che il sindaco di Pesaro Ricci a breve ecco vi ha convocati? non ci ha convocato io spero che ci convocchi quando ha argomenti su tutti i siti e abbia tutti gli elementi da mettere alla nostra attenzione perché altrimenti non si fa nessun passo avanti e dunque mentre a Fano si discute si dibatte su un ospedale che ancora è solo sulla carta a Pergola c'è un sindaco che cerca di difendere quello che ha e sabato è successa una cosa molto grave secondo il suo giudizio tant'è che ha preparato un esposto alla Procura della Repubblica Carabinieri Fano sono il sindaco di Pergola Francesco Valdelli buonasera io ho bisogno urgentemente di una pattuglia al punto di primo intervento di Pergola tra il sindaco di Pergola con la sua giunta e la dirigenza dell'Asur è ormai guerra aperta dopo il blitz nella notte di sabato con tanto di Carabinieri immortalato su video per testimoniare dell'assenza del medico sull'ambulanza del 118 e le seguenti dichiarazioni a mezzo stampa del direttore generale dell'Asur Alessandro Marini che non hanno per nulla convinto il primo cittadino di una situazione a Pergola corrispondente alle normative vigenti ora siamo al contrattacco risponderemo colpo su colpo all'arroganza della regione Marche tuona Francesco Baldelli in conferenza stampa qui c'è qualcuno che sta giocando con la vita dei cittadini e ci spiega anche il perché Pergola è stato riconosciuto dal piano sanitario dei successivi atti che gli danno attuazione come ospedale di un territorio geograficamente disagiato questo secondo anche la legge nazionale e gli indirizzi nazionali pretendono che su questo territorio vi sia un pronto soccorso e riparti di chirurgia medicina e quanto altro e tutti gli altri servizi addessi connessi perché si possa far fronte all'emergenza e salvare la vita ai nostri concittadini e all'ampia area di territorio servito dal nostro ospedale cartina alla mano il sindaco della città dei bronzi dorati mette nero su bianco quanto dice e quanto sostiene con fermezza tanto che nella giornata di oggi ha dato ordine alla segreteria comunale di trasmettere un esposto alla procura della repubblica sui fatti accaduti e una diffida alla stessa Asur a voler provvedere tempestivamente per assicurare la piena operatività dell'ospedale e del servizio di 118 vedete questa cartina alla mie spalle questa l'abbiamo realizzata per gli analfabeti geografici che dirigono la sanità della regione la prima struttura utile per avere un soccorso adeguato partendo dal nostro territorio non è altro che l'ospedale di Pesaro questa è l'assistenza dalle 20 della sera alle 8 della mattina quindi nell'arco di 12 ore tutte le notti il primo e l'unico pronto soccorso di interventistica cardiovascolare e neurologica la troviamo a Pesaro chiunque conosce questo territorio sa che per raggiungere Pesaro da Pergola in condizioni critiche ci vogliono più di 60 minuti normalmente un'ora in quarto trovando condizioni di traffico buone e non trovando maltempo l'altro pronto soccorso è quello di Urbino e quello di Fano che non hanno le caratteristiche del pronto soccorso di Pesaro e sapete benissimo quali sono le condizioni di queste due strutture ospedaliere non si gioca più sulla vita dei cittadini e veramente risponderemo in ogni piazza a quello che sta accadendo nella nostra provincia che voglio ricordare conta solo 2,6 posti letto ogni mille abitanti contro il 4,7 della provincia di Ancona questo atteggiamento della politica regionale grida vendetta questi personaggi si mettano una mano sulla coscienza e a proposito di chilometri di strada da fare per curarsi sentite la storia di questo fanese che deve andare a Bologna per sottoporsi a delle terapie in camera iperbarica perché la regione Marche non passa la convenzione al laboratorio privato di Fano non sono coperti dal servizio sanitario i servizi di eccellenza forniti dall'unica camera iperbarica presente nelle Marche infatti l'ambulatorio privato di Via delle Querce a Fano in zona ex zuccherificio non ha una convenzione nonostante sia stata richiesta più volte dalla direzione sanitaria della struttura e il tutto a discapito di quei cittadini che non riescono a sostenere le spese di ogni trattamento così come sta accadendo a un fanese costretto a fare il pendolare fino a Bologna pur di sottoporsi a 10 terapie con ossigeno puro i protagonisti di questa odissea purtroppo sono in tanti perché come ci spiega il direttore sanitario del centro i trattamenti sono costosi e le patologie che necessitano di questo tipo di cura sono numerose e vanno dalle infezioni alle ulcere cutanee dalla sordità improvvisa traumi e fratture dai trapianti alla sclerosi multipla i costi sono abbastanza elevati nel senso che non partendo mai da meno di 15 sedute ovviamente i pazienti si trovano ad affrontare una spesa abbastanza grossa le patologie possono richiedere trattamenti anche di 40 50 addirittura 80 sedute e la terapia viene rimborsata parzialmente cioè su 93 euro seduta viene rimborsato circa il 50% ovviamente una volta che il paziente ha terminato il trattamento facendo richiesta apposita alla propria ASL competente la crisi di certo mette in difficoltà alcuni pazienti che per risparmiare decidono di recarsi fuori regione d'altra parte per frenare la mobilità passiva i responsabili del laboratorio fanese hanno eseguito dei lavori di adeguamento nei locali per ottenere l'accreditamento che è arrivato sei anni fa con una nota di eccellenza ma da allora sono ancora in attesa di una convenzione con il sistema sanitario regionale nonostante i numerosi discorsi favorevoli da parte di esponenti politici da parte di responsabili della sanità a tutt'oggi dal 2010 al 2016 ancora non abbiamo ottenuto granché questo ci dispiace poi non trovare dall'altra parte una risposta favorevole sia per noi per favorirci in determinate situazioni ma soprattutto che poi anche il compito etico di qualsiasi struttura sanitaria quello di favorire la salute dei cittadini che rimane comunque il nodo fondamentale della situazione Occupazione ferma e un crollo dei contratti a tempo indeterminato sono questi i dati Istat elaborati dalla CGL sulla regione marchigiana tra i lavoratori dipendenti crescono solo gli occupati in agricoltura mentre negli altri settori si registra una diminuzione le persone in cerca di lavoro sono circa 69 mila mentre per i giovani tra i 15 e i 24 anni il tasso di disoccupazione del 32% inferiore alla media nazionale venerdì prossimo terzo ed ultimo appuntamento del laboratorio di progettazione partecipata per l'area dell'ex zuccherificio nei giorni e nelle settimane scorse ricorderete il comune ha chiesto idee ai cittadini su che cosa realizzare in questa ampia area che si trova alle porte della città i risultati di questo percorso verranno presentati alla cittadinanza venerdì primo aprile nella chiesa dell'ex nell'ex chiesa del suffragio dalle 17.30 alle 19.30 ci sarà anche un fanese alle olimpiadi di italiano è il 14enne Alex Mapensi studente dell'Olivetti che domani si recherà a Roma per partecipare a questa importante gara allora quelli dell'accademia della Crusca sono dei tipi tors ti sei allenato sì abbastanza adesso non so se riuscirò a passare però c'è proprio ecco farai come ci si allena per le olimpiadi di italiano si studia la grammatica poi si fanno esorcizi sulle vecchie prove ti senti pronto? sì mi sento pronto dopo si vedrà c'è un bel peso sulle spalle sei conscio di questo? sì bocca al lupo grazie i crepi un ragazzo dell'Olivetti partecipa alle olimpiadi di italiano che si tengono a Roma il 18 quindi venerdì prossimo certo ecco è qua il nostro eroe il nostro Alex che appunto è riuscito a sbaragliare tantissimi studenti perché quest'anno i partecipanti sono stati oltre 43 mila in tutta Italia quindi lui si è qualificato ha superato la fase provinciale la fase regionale e adesso rappresenta le marche per gli istituti professionali sono solo tre gli studenti di tutte le marche tra l'altro lui è unico per gli istituti professionali che presenterà e terà alto quindi il nome del nostro istituto a Roma ecco all'Accademia della Crusca per noi è già un grandissimo risultato è chiaro che saremo strafelici se poi tenesse anche l'ulteriore passo però superasse anche l'ulteriore passo però ecco per noi già veramente è un ottimo risultato ecco è un ragazzo che posso dirlo questo Alex che ha confessato che da sempre la lingua italiana gli è piaciuta già dalla scuola elementare la maestra diciamo ha sempre capito insomma questa sua passione quindi l'ha coltivato fin da allora ed ecco i risultati davvero complimenti bravo Alex noi finiamo qui il nostro telegiornale grazie per averci seguito buona serata e a domani grazie per aver guardato